Concluso il 2022 per il Presidente Aquaroglia e per la Giunta regionale, è tempo di approfondire tutti i temi che saranno protagonisti per questo 2023. Un anno che lo stesso Aquaroglia ha definito importante per i cantieri che dovranno partire per cercare di migliorare le infrastrutture territoriali crescendo in appetibilità. Pensiero raccolto oggi in occasione della conferenza stampa di fine anno della Regione Marche, convocata in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti e posticipata in questi primi giorni del 2023. Dovrebbero prendere vita quello della Galleria della Guinza, dovrebbero continuare quello degli ospedali che sono in corso, dovrebbe prendere vita anche il cantiere della Pede Montana Sud e tante altre realtà che passano da uno stato di studio, di progetto di fattibilità a progetto definitivo, quindi uno stato quasi di preesecutivo e precanterabilità. Oggi noi registriamo un'importante accelerazione per il rilancio di interporto e aeroporto che possono garantire alla nostra regione la costituzione di un polo logistico di natura sicuramente infraregionale, interregionale e importante nel medio adriatico. Oltre all'anno dei cantieri per la Regione Marche è anche l'anno della nuova riforma sanitaria, che dal 1 gennaio è entrata in vigore attuando una riorganizzazione ospedaliera di prossimità. È l'anno dove la riforma sanitaria e le nuove aziende prenderanno corpo in queste ore, è l'anno dove speriamo il Governo nazionale metterà mano ad una riforma che consente la stabilizzazione del personale medico sanitario e la possibilità di andare a recuperare rispetto a quel gap, a quel turnover che ci vede sempre in segno negativo. Questo deve assolutamente disegnare una nuova opportunità che ci consente di dare quelle risposte all'emergenza, urgenza, ai distretti, ai territori e che ci consente di abbassare il tempo nelle liste d'attesa. Oggi noi siamo assolutamente insoddisfatti della situazione che registriamo nella nostra Regione e della situazione che in generale si registra in Italia. Il particolare focus di questo 2023 sarà rivolto ai comuni colpiti dall'alluvione lo scorso 15 settembre. Una manovra che sarà attuabile appena avverrà l'accreditamento di 200 milioni di risorse statali. Sull'alluvione c'è una fase e procedura di accreditamento dei primi 200 milioni. Ancora non sono accreditati nella struttura regionale però c'è anche la richiesta e la concessione di una nuova struttura commissariale che possa essere in grado di aiutarci in questo ruolo di dare le risposte necessarie alle famiglie, alle imprese e ai comuni ma anche di progettare in via più breve possibile quelle opere di mitigazione necessarie a evitare che in futuro possano accadere eventi così drammatici.